Sono oltre mille delegati sindacali provenienti da tutta l'isola che hanno raggiunto il Teatro Politeama di Palermo per partecipare alla manifestazione unitaria siciliana che anticipa la mobilitazione nazionale del 22 giugno, indetta a Roma dai tre sindacati confederali. Tanti settori lavorativi rappresentati, tutti accomunati dalla crisi. Noi siamo senza ammortizzatori sociali perché in base alla legge del 2013 e l'ultimo accordo che hanno fatto esclude i cosiddetti lavoratori 2140 che hanno percepito gli ammortizzatori ordinari. Noi pensiamo che sia un'ingiustizia perché nessuna legge può abolire i diritti che hanno avuto i lavoratori in un precedente accordo che era stato firmato dagli stessi sindacati con la regione nel 2011 che prevedeva ammortizzatori sociali intero per 48 mesi. Lavoratori e rappresentanti sindacali chiedono al governo Crocetta risposte sul futuro e l'adozione di una strategia di investimenti per uscire al più presto dall'emergenza sociale. Chiediamo al governo Crocetta di fare meno chiacchiere e di fare più fatti. L'industria nel territorio siciliano è distrutta, si rischia la desertificazione dei territori per mancanza di infrastrutture. Chiediamo che questo governo regionale invece di andare ai talk show, di stare tra la gente, e di cercare di aprire tavoli con il sindacato e le parti sociali per al fine di strutturare il territorio con infrastrutture che possono dare respiro all'industria siciliana. Abbiamo il caso Fiat, abbiamo il caso delle accederie di Giammoro, di Messina, abbiamo il caso della raffineria di Gela, di Siracusa, di Priolo e di Messina che hanno difficoltà in termini infrastrutturali. Abbiamo la necessità di confrontarci per capire quali sono le politiche industriali da fare a livello regionale. Grazie a tutti.